Ed eccoci a un nuovo appuntamento con l'informazione di Hermes TV sul canale 629 del Digital Terrestre di Video Sicilia 2. Oggi ricordiamo che mercoledì 15 luglio 2015 si festeggia San Buonaventura Vescovo. Abbiamo questa edizione con una notizia che riguarda anche alcuni deputati, nonché ex sindaco di Marsala coinvolti in una vicenda giudiziaria che prese corpo anni e orsono all'Assemblea regionale siciliana. La Procura di Palermo ha chiesto il rivio a giudizio per 13 ex capogruppo dell'Assemblea regionale siciliana accusati di peculato. La richiesta è stata formalizzata dai PM Agnelo, Battinieri e De Montis, coordinati dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci, che conducono l'inchiesta sulle spese dei gruppi parlamentari effettuate nella precedente legislatura. Gli ex capogruppo accusati di peculato sono la marsalese Giulia Damo, Giovanni Battista Buffardecci, Nuzio Capodonna, Mariana Caronia, Nicola D'Agostino, Catena De Luca, Cataldo Fiorenza, Innocenzo Leontini, Maira Rudi, Livio Marrocco, Trapanese, Francesco Musotto, Salvo Pogliesi e Paolo Ruggirello, pure lui, Trapanese. Chiesta l'archivazione invece per Antonello Crecolici, capogruppo del PD nella quindicesima legislatura e ora riconfermato nella sua carica dopo la nomina di Baldo Gucciardi ad assessore alla salute. Per lui assistito agli avvocati Nino Caleca, Gaetano Insolero e Roberta Mangano e altri 44 indagati, tra cui l'attuale sottosegretario Davide Faraone, il presidente dell'Ars Giovanni Ardizione, l'ex deputato Bernardo Mattarella, l'ex presidente dell'Ars Francesco Cascio, l'attuale vicepresidente Giuseppe Lupo, l'ex governatore Raffaele Lombardo, la procura ha chiesto l'archiviazione del caso per altri 40 politici, invece l'inchiesta prosegue, la procura ritiene che le spese dei gruppi fossero finalizzate solo a scopi personali. L'inchiesta sugli ex capogruppo si era chiusa lo scorso 24 aprile, suscitando cramore in tutta Italia. Sono in tutto 97 gli esponenti di Sala d'Ercole coinvolti. Secondo l'accusa, con i fondi destinati al funzionamento dei gruppi parlamentari, sarebbero stati fatti acquisti di varia natura, tra cui una borsa Louis Vuitton, cravate, profumi, capi di ligeria di russo e nonché bottiglie di vino pagate a costi altissimi. Sono in corso invece a Marsara i controlli della Guardia di Finanza, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, l'ASP di Trapa, il Limpis e l'Agenzia delle Entrate. La categoria presa di mira è quella dei bar e delle attività della ristorazione in genere. Molti locali sono stati già pesantemente multati con verbali, anche che ammontano a svariati migliaia di euro. Altre invece hanno avuto un ammonimento a mettersi in regola entro pochi giorni. I vizi, perché così chiamarli degli esercenti massaresi, complice anche, bisogna dirlo, una legislatura confusa e non certo di favore, sono sempre gli stessi. Il lavoro nero, locali non a norma per la sicurezza, carenza igienica, ma quello che colpisce di più, dicono i funzionari operativi dei controlli della Polizia Tributaria, è la completa inosservanza del regole per l'occupazione del suolo pubblico. In molti locali la richiesta è minore rispetto allo spazio poi occupato su strada o nel marciapiede. A Marsara, secondo i dati ufficiali, le attività di restaurazione o di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico sono aumentate negli ultimi anni dal 23%, tuttavia questo dato non corrisponde a un adeguato aumento delle imposte, segno evidente che molto lavoro viene svolto in nero e c'è tanta evasione, a cominciare dalla mancata emissione di fatture e scontini, come spesso e sovente accade. L'attenzione inoltre presto verrà data anche alla tassa di soggiorno, a Marsara è ormai operativa da un anno, eppure il gettito della tassa di soggiorno è di soli 180 mila Euro, sembra molto inferiore alle attese del Comune. C'è il sospetto che non tutti la facciano pagare, così come anche quello che è vero che ormai la città è piena di turisti e di attività ricettive abusive, le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda la presenza di persone che lavorano in nero. Ancora cronaca avvicendamento alla stazione dei Carabinieri di Petrosino, questa mattina l'incontro con il Sindaco si è svolto al Palazzo Municipale di Petrosino, un incontro tra il Sindaco Gaspar Giacadone e i luogotenenti dei Carabinieri, di Maurizio Geremida e Andrea D'Incerto, che si sono avvicendati alla guida della locale stazione dei Carabinieri a Petrosino. Geremida, 46 anni, originale di Santa Ninfa, dopo 9 anni lascia a Petrosino e andrà a dirigere la stazione a Mazzara del Vallo. Il luogotenente D'Incerto, invece, classe 69 di Castelvetrano, lascia la compagnia di Marsala e andrà a dirigere la stazione dei Carabinieri a Petrosino. I migliori auguri a entrambi i luogotenenti per la loro carriera. Ieri mattina, intorno alle 9, un tamponamento a catena coinvolto tre autovetture è avvenuto il tutto in via Trapani, in possibilità della scuola Luigi Sturzo. In particolare si sono scontrati una Mini Cooper, che percorreva la strada con le direzioni di marcia Trapani verso Mazzara. Questa ha tamponato prima una Dai V Matiz e alla guida si trovava un anziano di 81 anni e questa volta l'uomo ha subito l'urto, ha tamponato l'auto che si trovava davanti a lui, che era una Fiat Tepunto condotta da un altro uomo di 56 anni. Il conducente della Mini Cooper ha pensato bene di scappare, sperando di far perdere le sue tracce, ma grazie alle ricerche da parte dell'ispettore capo Tommaso Trapani, coordinatore della squadra infortunistica della Polizia Municipale di Mazzara, intervenuto sul posto per il ribadio sinistro, è stato subito troppo rintacciato e in seguito anche alle testimonianze di alcuni spettatori che si trovavano in zona durante il sinistro. Si tratta di un giovane di 25 anni, massalese, nel quale è stata riterata la patente. Sul posto è giunta anche l'ambulanza del 118 per soccorrere trasportata dalla Matiz, una donna di 75 anni che è rimasta ferita a seguito del tamponamento. E parliamo adesso di un'altra denuncia, questa volta è di Lega Ambiente, del circolo Marsala-Petrosino, che scrive al sindaco di Marsala, in un primo momento per compiacersi delle attenzioni rivolte all'utilizzo delle spiagge per i disabili, ma pone poi l'accento su tanti problemi che affliggono i litorali di Marsala. La lettera si legge testualmente. Apprezziamo l'interesse e l'impegno prioritario mostrato dal neosindaco di Marsala, Alberto Di Gironomo, e dalla sua giunta, scrive l'ambucato Maria Letizia Vipitone, presidente locale Circo Le Gambiente, nel facilitare l'accesso alle spiagge ai disabili e ai bagnanti. Riteniamo tuttavia che ciò sia lodevole, ma non è sufficiente nella corretta fruizione e tutela le nostre spiagge. Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale di Marsala di intensificare ed accelerare la demolizione degli edifici abusivi in fascia di maniare e di inedificabilità assoluta. Detta attività si rende necessaria non solo al fine di ripristinare la legalità violata, ma soprattutto per recuperare porzioni di spiaggia oggi ridotte a pochi metri di arenile. Anche in questo riteniamo inoltre indiferibile e prioritario l'impegno del Comune nella definitiva approvazione del PUDM, ovvero piano di utilizzo del demanio marittimo, conclude la Presidente Vipitone nel Circo Marsala-Petro Signore Gambiente, mediante quale si ridurrebbe enormemente, stiamo parlando di questo strumento legislativo, la proliferazione ipertrofica di chioschi e stabilimenti balneari, che di fatto rendono la spiaggia marsalese inaccessibile ai fruttori per della spiaggia libera. Effettivamente forse è anche vera la denuncia di Degambiente che a Marsala c'è un proliferare di attività balneari, mentre la spiaggia riserva pochi spazi per la balneazione libera o di quanti o non possono permettersi di usufruire dei servizi di un lido balneare o per loro scelta vogliono praticare una balneazione libera. Scari domani il 16 luglio è il termine per il pagamento della prima rata della Tari, tassa sui rifiuti. Per le famiglie la quota fissa della tariffa è determinata dalla superficie dell'abitazione, mentre la quota variabile è in relazione al numero degli occupanti, come risulta alla nagra comunale alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, in questo caso del 2015. Su questo punto la variazione più ricorrente riguarda i familiari conviventi che per motivi di studio o lavoro risiedono in altro comune. In tal caso, come prevede il regolamento, occorre dimostrare con idonea documentazione atto di proprietà, contratto di locazione, la permanenza fuori sede viene per un loro congiunto per almeno 9 mesi d'anno. A tal proposito, in questi giorni si registra una notevole affluenza all'Aipa da parte di quanti hanno figli universitari fuori sede. Ebbene l'amministrazione comunale di concerto con l'Aipa rende noto che non c'è alcuna urgenza a presentare la relativa documentazione giustificativa che dà diritto alla riduzione della tarità e documentazione può essere presentata entro la scadenza della seconda rata che è il 16 settembre prossimo. Vediamo lettura di un'altra lettera che giunge in redazione a firma di due consiglieri comunali che lamentano le numerose difficoltà che si registrano nella circolazione veicolare a Marsala a causa dei passaggi a livello. La nota è rivolta al Treni Italia, la società che gestisce le ferrovie. I consiglieri comunali la interrogano per sapere quali iniziative intendono adottare. Sappiamo bene che da Birgi a Petrosino Strasatti scrivono la città è divisa in due con un solo sottopassaggio ed un cavalcavia situato nel centro città. Le difficoltà ai nostri cittadini sono in particolare durante il periodo estivo e nelle ore di punta quando la gente rimane per 20 e travolta anche 45 minuti bloccata dietro a un passaggio a livello sotto il sole con bambini e anziani a bordo considerando anche il fatto che la base da cui partono le ambulanze dietro chiamate al 118 nella zona sud provengono da Petrosino e spesso anche queste sono costrette ad attese intollerabili visto che quando si tratta di soccorsi anche i secondi sono preziosi il caso diventa veramente assurdo. Altra importante segnalazione che ci fanno i nostri cittadini scrivono i consiglieri comunali che le barre restano spesso aperte nella zona di contrata a cuori di Gesù senza alcun avviso o segnazione se non quella dei passanti se non del treno che rallenta e suona in maniera smisurata pertanto chiedono i consiglieri comunali e la società trenitaria di ricevere al più presto delle risposte in mezzo a quanto suddetto al fine di diminuire i disagi alla collettività marsalese e quello delle passaggi a livello chiuso non è solo un problema del versante sud ma è un problema che affligge anche e soprattutto il centro di Marsala dove la vicinanza dei tre passaggi a livello di via Lipari corso Catafini via Roma e via Idria talvolta consentono alle ferrovie di chiuderlo per decine e decine di minuti in attesa che possano giungere entrambi i treni che si danno la coincidenza alla stazione centrale di Marsala prende il via Marsala-Labilandia il progetto che prevede interventi in favore di minori e disabili e dà comunicazione al Comitato dei Sindaci del distretto socio-sanitario Marsala-Petrosino nell'ambito della riprogrammazione al piano di zona a partire dal prossimo 20 luglio il distretto 52 seguendo il percorso operativo con contatto con l'ASP di Marsala avvierà il servizio per 64 soggetti ammessi, 55 residenti a Marsala e 9 a Petrosino per l'annualità 2015-2016 per meglio pianificare le prestazioni l'ufficio piano sta già provvedendo a consegnare a ciascuna familiare un del soggetto diversamente abile un voucher di servizio corrispondente all'entità delle prestazioni previste nel piano personalizzato 6 ore settimanali per prestazioni di tipo socio, educativo e assistenziale nonché altri servizi migliorativi prescelti dallo stesso familiare del beneficiario nel corso dello stesso anno tramite l'emissione di ulteriori voucher sarà possibile usufruire di altre prestazioni integrazione scolastica, attività sportiva e ricreativa piscina, ipoterapia, danza, calcio, musicoterapia sarà cura della famiglia e della disabile rivolgersi a un ente del terzo settore accreditato per attivare le prestazioni richieste bene sottolineare che rappresentano la sintesi di quanto è emerso dai piani di individualizzati e redati unitamente alle famiglie accogliendo così come l'intervento di un operatore specializzato che possa aiutare i ragazzi dai compiti nel potenziamento di abilità espressiva comunicativa e razionale e ciò sia a domicilio che presso l'ambiente scolastico fermo restando che tali interventi esulano da quelli già previsti dall'insegnante di sostegno il progetto Abilandia è curato dai servizi sociali in via Falcone alcune informazioni possono anche attingersi telefonicamente telefonando allo 0 923 993 784 siamo in piena estate è vero ma dobbiamo tentare di mettere su un programma di spettacoli per rendere Massara più accogliente sia per i cittadini che per i visitatori ciò è quanto dichiara in una nota diffusa oggi alla stampa il sindaco di Massara conto sulla buona volontà di associazioni, gruppi, artisti locali che vogliono condividere con noi questo ulteriore sforzo in favore della città e l'appello lanciato da Alberto di Gerolamo alla vigia e alla scadenza del termine entro cui presentare le proposte per l'estate Massarese 2015 quello che si chiude che si chiede ai privati che vogliono organizzare i spettacoli in genere diverso e quanto offre l'amministrazione comunale a seconda se l'appuntamento è a ingresso libero o a pagamento è riportato nell'avviso pubblico reso noto diversi giorni fa e lo stesso contenuto tra l'altro è stato oggetto di discussione e di interventi nel corso dell'incontro tenuto si ieri con associazioni culturali compagnie teatrali agenzie di promozione singoli artisti fornendo chiarimenti alle varie osservazioni sullevate sindaco, assessori e dirigenti hanno altrasì ribadito che per la selezione delle proposte si terrà prigiormente conto dell'entità dei costi a carico del comune sarà votata altresì un'adeguata pubblicità anche per gli eventi diversi da quelli ad ingresso libero le proposte vanno presentate in trico chiuso entro le ore 12 di domani 16 luglio al protocollo generale del comune Massara in via Garibaldi la senatrice Pamela Orru interviene sulle questioni finanziarie stabilizzazione precaria e condizioso Stato-Regione sul ritorno delle tasse pagate in Sicilia la mancata efficienza dell'autonomia della regione siciliana e sul salvataggio dei comuni che rischiano in Sicilia il dissesto economico ciò in sindesi è quando proposto dalla parlamentare siciliana che ha presentato diversi mandamenti al disegno di legge sugli enti territoriali tra questi una proposta emendativa prevede il trasferimento alla regione siciliana di 300 milioni di euro a titolo di restituzione dalle quote IRPEF sulla busta paga dei dipendenti pubblici residenti in Sicilia trattenute dallo Stato per effetto della procedura di centralizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali che a norma lo statuto della regione siciliana sono di competenza regionale risulta indispensabile dichiarato da senatrice RU per accompagnare e sostenere il percorso di risanamento accordato con il governo centrale e scongiurare il rischio di vanificare gli sforzi già imposti con la recente legge di stabilità regionale procede al trasferimento alla regione sicilia la somma di 300 milioni di euro a titolo di restituzione dell'IRPEF trattenuta dal territorio regionale ancora lettere di compiacimenti per l'insediamento alla sanità regionale del nostro concittadino vedo con provinciare erano anni che questa provincia non aveva un assessore stiamo parlando di Baldo Gucciardi incontrerò nei prossimi giorni il nuovo assessore regionale della sanità scrive De Nicola il rappresentante dell'ASP di Trapani per confrontarmi con lui sulle prossime scadenze che attendono la sanità trapanese dalla nuova pianta organica che permetterà lo sblocco delle assunzioni del personale sanitario ai finanziamenti in itinere per gli ospedali di Trapani e Alcamo fino alla messa in sicurezza nell'ospedale di Pantelleria lo ha annunciato il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani Fabrizio De Nicola certamente Baldo Gucciardi politico responsabile trasparente e competente conosce bene le problematiche delle nostre aziende oltre che per il suo ruolo istituzionale anche per essere dirigente e amministrativo di questa ASP in aspettativa per il mandato parlamentare di coperto siamo certi a concluso De Nicola che avremmo in lui un interlocutore attento alle esigenze degli utenti della società siciliana e trapanese in modo particolare e ora in chiusura vi lasciamo a una lunga intervista realizzata con il neoretto assessore che rientra nell'ambito delle nostre procedure di farvi conoscere i nostri pubblici amministratori da vicino ma vediamo i dettagli nel servizio Continuiamo ancora il nostro giro di interviste con i neoassessori della giunta di Gironomo e parliamo di questo primo periodo amministrativo come sta andando? Bene che ci siamo messi già di buona lena al lavoro in una situazione difficile l'entusiasmo parecchio ma alla contrapolezza sapevamo della difficoltà non fino a tanto c'è parecchia inefficienza nella macchina amministrativa e ci stiamo mettendo mano punto per punto per trovare tutte le rimettere in moto una macchina che per troppo tempo è rimasta bloccata e parecchie inefficienze in varie reparti e l'utilizzazione del personale diciamo non in maniera efficace c'è parecchio c'è parecchio da lavorare ma una grande buona volontà il sindaco in primis per risanare fin quando è possibile le casse comunali che languono e rimettere in moto una macchina amministrativa che ripeto non voglio essere eccessivamente ripetitivo che fin troppo tempo è rimasta ferma e frutta da logiche che non attengono alla buona amministrazione noi dobbiamo sgombrare il campo dalle vecchie logiche di utilizzazione del personale in funzione di amico nemico di appartenenza ma in funzione di quello che serve per migliorare i servizi e per garantire i servizi più efficienti al meno costo possibile alla città Quali rapporti riscontrati con i dirigenti e con gli impiegati comunali o in cui vi siete insediati? No, appunto il primo passo che si è fatto è azzerare tutto abbiamo riportato abbiamo soltanto tre dirigenti di ruolo al comune e quindi abbiamo affidato tutta l'organizzazione ai soli tre dirigenti non abbiamo rinnovato i contratti e gli stessi dirigenti hanno in carico a interim delle altre competenze che prima hanno affidato quindi niente facendo funzioni esatto non esistono prima avevamo una macchina con nove dirigenti adesso ne abbiamo con tre quindi un risparmio economico che è un risparmio economico indubbiamente questa è una prima valutazione dobbiamo verificare se è possibile poter gestire il comune con solo tre dirigenti o eventualmente impinguare la squadra per l'esigenza che c'è ma ripeto l'esigenza non deve nascere dal dirigente o dal funzionario che bisogna che diventi mio amico o mio nemico ma fatto in funzione delle reali esigenze che ha per migliorare la struttura della macchina amministrativa e tenendo conto solo e unicamente della meritocrazia cioè il funzionario più bravo in campo capace verrà nominato se serve dirigente oppure se riusciamo a organizzare il comune che è un po' complicato ma eventualmente anche queste cose se le mettiamo in campo se è possibile organizzare il comune con solo tre dirigenti questo comporterebbe indubbiamente un grandissimo risparmio per le casse comunali però questo non deve inviciare la buona organizzazione quindi se questo è possibile lo facciamo se per garantire un buon l'efficacia anche al senso amministrativo perché se poi non riesce a dare servizi allora bisogna rivedere e ampliare ma indubbiamente non può essere più frutto di clientelismo di appartenenza o di altro che erano vecchie logiche che noi vogliamo sgombrare il campo da quella logica questo mese di amministrazione siamo quasi a un mese all'insediamento della giunta e del sindaco lo avete passato ascoltando i cittadini e andando in giro per la città quale rapporto avete scontrato i cittadini cosa vi chiedono come vedono questo vostro rapporto di incontro infatti questo è stato anche qui le deliche le polemiche sono state il sindaco ha voluto fare un gioco di squadra non ha voluto dare nell'immediato le deliche perché anche qui voleva valutare meglio le caratteristiche di ogni assessore indubbiamente già l'idea il sindaco ce l'ha indubbiamente di ogni delica che l'aveva già in mente al momento in cui ponderando la valutazione però bisogna fare un discorso di squadra occorre che ognuno sia consapevole dell'intero funzionamento non devono esistere compartimenti stagno ecco il motivo delle deliche non date in questo momento perché ognuno si deve occupare di tutto in questa prima fase per avere contezza di quello che è e poi per poi dare le deliche successivamente a breve per poi ognuno occuparsi nello specifico sempre in un gioco di squadra così il gioco di squadra il sindaco l'ha fatto con la città e lo stiamo facendo con la città il motivo della vittoria di Alberto Di Girolamo questo sindaco è un'interpretazione che avrà in questo di lavorare con la città e per la città il coinvolgimento diretto dei cittadini ascoltare le loro istanze che vogliono servizi più efficienti vogliono una città più pulita vogliono una città ben organizzata e coinvolgendole anche loro ascoltandole le loro critiche che sono critiche per migliorare la città ne terremo debbedemente conto e così come abbiamo fatto in questo primo mese andando ad affrontare i problemi guardandoli di persona non delegando ad altri il sindaco con gli assessori con i dirigenti abbiamo fatto il giro della città dobbiamo ancora completare l'abbiamo visto il versante sud abbiamo lì scoperto nella zona Lidia per esempio come parecchio patrimonio comunale è rimasto lì da tantissime anni a propria disposizione ma nessuno l'abbiamo utilizzato l'abbiamo utilizzato per parcheggi pubblici che servono la città e questo è un primo cosa che abbiamo fatto nell'immediato ma tant'altre cose abbiamo in cantiere per efficientare la macchina investita per far risparmiare perché risparmiando risparmiando anche i cittadini dobbiamo offrire servizi migliori c'è un momento di crisi indubbiamente non lo possiamo nascondere è l'unico sistema non possiamo determinare un aumento delle tasse perché già la situazione è abbastanza critica i cittadini sono abbastanza tartassati quindi quel campo quella leva non la vogliamo utilizzare l'altra che ci rimane è quello di garantire gli stessi servizi al minor costo questo è l'obiettivo stiamo facendo puntualmente tutta una disamina al costo dell'energia elettrica andando a vedere e ho chiesto materialmente contatore per contatore consumo per ogni singolo palo così consumo per quando guarda le linee telefoniche l'utilizzo delle autovetture l'utilizzo del consumo del carburante cioè guardando anche le piccole cose perché dobbiamo su ogni cosa fare efficientamento e creare risparmio per i cittadini in base al suo percorso di studi alla sua professionalità quale delega potrebbe calzarli apprendendo già il sindaco mi aveva nominato diciamo come tecnico essendo un'esperienza nel campo economico come quello del bilancio delle finanze quella è una mia delega che già mi era data già dal inizio e mi è stato richiesto per questo ma sono a disposizione del sindaco per qualsiasi altra delega che lui vorrebbe darmi qualsiasi altra delega intende attribuirmi per meglio collaborarlo per collaborare ma più che altro per collaborare per la città perché ripeto questa giunta non è una giunta del sindaco Alberto Di Gerolamo che vuole fare il sindaco di tutta la città e di cittadini non è una giunta di Gerolamo ma è una giunta della città di Marsala mai come ora Favignana Levanzo e Marettimo sono state così vicine e alla portata di tutti Capricciomare mette a disposizione una vasta gamma di gommoni dai piccoli conducibili senza fatente nautica ai super motorizzati gommoni d'altura non affidatevi al primo che capita Capricciomare di Marsala vanta esperienza ventennale nel settore nautico e dispone di un pontile privato completo di tutti i servizi all'interno del porto per l'ormeggio barche l'assistenta tecnica ed il ricovero invernale Capricciomare è a Marsala in via lungomare mediterraneo 8 barra 12 infoline 0923 71 30 40 oppure 328 98 50 870 ed eccoci in chiusura una breve nota le mura di tramontana l'ultimo romanzo di Paolo Chirco verrà presentato domani 16 luglio alle 21 e 30 presso il convento del Carbile dialogherà con l'autore il professor Nino Rosalia alcuni brani saranno letti da Maria Montaleone e Chiara Vinci dal teatro abusivo di Marsala diretto da Massimo Pastore seguirà un brindisi con i vini di Donna Fugata per oggi è tutto per questa edizione vi diamo appuntamento alle prossime sempre sul 629 di Hermes TV digitale terrestre di Video Sicilia 2 per questa edizione è tutto arrivederci alle prossime di Video Sicilia 3